L'Università Luis Guido Carli ha incontrato i ragazzi dei migliori licei di Catania, con numerosi appuntamenti che hanno avuto inizio dal 13 novembre scorso. Un'opportunità di confronto tra i ragazzi, un modo come un altro per parlare di lavoro post-studio universitario. La prestigiosa università ha coinvolto nei propri incontri circa 1000 studenti del terzo, quarto e quinto anno. Ha presentato i propri percorsi formativi, le diverse opportunità di studio, le modalità di ammissione e le attività didattiche. Un'eccezionale attenzione al sud Italia da parte dell'Università Luis, che ha visto nell'anno 2012-2013 il 42% degli studenti fare domande di ammissione al proprio eteneo, il 90% siciliani. Non vi è dunque crisi che tenga quando bisogna investire nel futuro dei propri figli. Se ne valga poi la pena, ce l'ha spiegato Gianluca Salemi, consulente Luis Orientamento Regione Sicilia, che ha incontrato gli studenti dell'ultimo anno al persigioso Istituto San Giuseppe di Catania. L'università, soprattutto se buona, viene vissuta dalle famiglie come un investimento, un investimento per il futuro dei loro figli. Ecco perché, nonostante la crisi, continuiamo a registrare anzi una crescita di iscritti dalla Sicilia nei confronti della nostra università. Quindi offre delle possibilità maggiori rispetto a chi magari sceglie un'università statale? Sì, ripeto, il numero, il dato in assoluto più importante è rappresentato dal numero di occupati ad un anno dalla laurea. Le percentuali, la media nazionale è del 60%, la Luis è dell'80%. Per cui questo è il segno principale che i ragazzi e le famiglie preferiscono la nostra università perché in qualche modo hanno delle garanzie in più e una maggiore sicurezza di investimento per il futuro dei loro figli. Grazie a tutti.